Troteco! Lumos! Non pensavo che sarei stato di nuovo qui. Ma qualsiasi cosa ci sia qui sotto, dobbiamo prendere la zanna di Basilisco. Troll, mancia morte, serpeverde! E qualsiasi cosa, purché non siano ragni. Cosa è stato? Stanno attaccando il castello. Sbrighiamoci! Ha smesso. Fermione? Che cosa è quello? Proteggami! Proteggami! Prendiamo la zanna e torniamo a combattere. Preferirei quasi essere attaccato dai mangiomorte. Run! Sto bene! Grazie! Devi fare attenzione. Questi passaggi sono molto antichi. Ragni! Ragni! Tu fai luce con la battaglia. Ci penso io. Guarda subito. Non riusc Argh! Questo è tutto. Non riuscrawì. Lei è Allia non riuscliare. Non riuscliare un'ultima pagata per��irà. Di Panda. Совetà! Vieni a vada con sfrotego! Dobbio, aprirò questa porta Tu guardami le spalle Sono il primo a meravigliarmi di essere geniù Ci siamo quasi Fatto Prima prendiamo una zanna di basilisco, meglio Questi devono essere i palestri servizi di Aragorn? No, Ron, sono l'anime, non acromantula Attenzione! Attenzione! Hermione! Hermione! L'ho preso, l'ho preso! Davvero? Stai bene, Ron? Che cosa di fottore? La! Comincia pure a lanciare incantesimi quando vuoi, Hermione Adesso, per esempio Hermione! Qui c'è qualcosa! Beh, direi che mi interno Hermione! Dove sei? Ragni! Ron, insomma! Guarda che li vedo! Un vent'unno! Ma siamo pregati! Non voglio restare qui più del necessario Rimani alla luce! Hai finito? Non voglio restare qui L'incantesimo lanciato su questa porta È molto più potente del precedente Tu fai del tuo meglio Proteggo! Indietro, eh! Ce siamo quasi! Ce siamo! Coraggio, Ron! Sto facendo del mio meglio! Ci è mancato poco! Dai, che ci siamo! Aspetta, Matti! Ecco! Meno male! Quelle cose sono orribili! Eccone uno! La camera è vicina! Facciamola finita! Sto peggicium! Possiamo andare! Sto peggicium! Sto peggicium! Accidenti! Non sarà facile! Come prima! Ok, però non metterci troppo Ci sono quasi Continua a lanciare Quasi finito Proteggium! Oh, non me la vado! Possiamo andare! Grazie, Ron! Guarda! Guarda! Ron, perché che la porta non si chiude? Sistema di armione! Guarda! Oh, no! Quelli ci hanno quasi fregato! Ma guarda! Adesso si decide A chiudersi! Mi sento male! Sto peggicium! La camera dei segreti! Non ero mai arrivato da qui! E' qui che Harry ha salvato Ginny! E ha ucciso Vasilescav! Non avanzare troppo nel buio! Erdico! 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 Signore, fallo tu. Fallo, Hermione! Non si ferma! Non fermate tutto! Non fermate tutto! Non fermate tutto! Non fermate tutto! Tornate dentro! Tornate tutti dentro! È incredibile! Lame Granite vuole che distruggiamo il ponte di legno! Ti coprirò dal ponte, Simus! Buona fortuna! Stai attento, Simus! Sarò del mio meglio!